Abbiamo fatto grandi cose l'ultimo sei nazioni, abbiamo fatto grandi cose guaghiamoci in faccia, siamo noi, siamo noi, rappresentiamo la nostra nazione rappresentiamo i nostri valori, siamo venuti qua per lottare per il rispetto della nostra nazione e dal primo minuto di questo torneo fino alla fine combattiamo insieme, siamo 30 c***o soldati italiani che combattiamo per la nostra patria e ci facciamo rispettare, mai più marcheranno di rispetto al nostro compagno mai più dubiteranno di noi, mai più dubiteranno di Giovanni, mai più dubiteranno di te perché noi siamo una famiglia, io combatto per te, combatto per la tua famiglia e tu combatti per la mia, combatto per te Ben trovato Stefano, una special rugby, molto special perché ieri è stata una giornata storica per il rugby italiano Una giornata veramente storica perché i nostri ragazzi dell'Under 20 al mondiale hanno battuto a casa loro, nel mondiale di casa, i sudafricani per la prima volta un risultato di grosso prestigio oltretutto hanno condotto per tutta la partita e sono riusciti ad aggiudicarsi la partita con otto punti di vantaggio quindi neanche lasciando il bonus ai sudafricani una ripresa che fa ben sperare dopo la sconfitta con l'Argentina e abbiamo poi l'ultimo mezzo di qualificazione con la Giorgia Giorgia che dal proprio canto ha sorpreso l'Argentina vincendo nettamente Guarda che ho visto la partita io quindi posso parlare nel senso che tutto sommato è stata una sorpresa perché sapeva che questa Giorgia è solida e ha messo in difficoltà da subito i Pumitas sia in Mischia, in Touche, in Moll, in punto di incontro sia anche per quanto riguarda l'aspetto difensivo che non ha lasciato la possibilità di avanzare ai Pumitas è successo forse due o tre volte soltanto in tutta la partita quindi Giorgia sarà un avversario ostico sicuramente per la prossima partita dell'Italia Sicuramente noi la Giorgia l'avevamo vista l'anno scorso nelle Summer Service aveva ben figurato aveva dato un filo da torcere a tutti aveva raccolto delle vittorie di prestigio e quindi per noi addetti ai lavori non è proprio una sorpresa è una conferma di quanto di buono stavamo facendo Infatti sono curioso di vedere questa prossima partita con gli Ezzurrini è stata una giornata veramente anche interessante perché abbiamo visto comunque la vittoria dei francesi i campioni in carica che hanno vinto contro New Zealand contro i Blacks Juniors una bella partita anche quella lì abbiamo visto giocatori interessantissimi nella nazionale francese in seconda linea della famiglia Tuilagi il medianino di Miska in median'opertura veramente una squadra bella, solida, completa abbiamo visto anche la vittoria della Irlanda versus Australia dopo abbiamo visto anche la vittoria questa volta abbastanza semplice dell'Inghilterra contro Fiji e non so se rimane un'altra partita rimane un'altra il Galles che ha battuto il Giappone il Galles che ha battuto il Giappone quindi un mondiale veramente di alto livello spero durante la trasmissione recuperare i collegamenti con Sudafrica perché volevo sentire qualcuno della nostra nazionale e vedevo anche se riuscivo a trovare qualcuno della nazionale argentina penso che sarà difficile anche perché sarà una giornata oggi di riposo dopo la battaglia di ieri abbiamo visto anche il rugby da altri tempi perché la partita dell'Italia si è giocata su un campo ai limiti della praticabilità un campo che era già stato provato dalla pioggia era la terza partita in calendario sullo stesso campo nella stessa giornata quindi ci siamo trovati con un campo che visto il risultato finale dovrebbe averci avvantaggiato però è stato sicuramente molto provante per i giocatori di entrambe le squadre abbiamo visto comunque un pacchetto veramente spettacolare perché la nostra prima lina la seconda tutto il pacchetto sì veramente una vittoria che passerà agli annali perché battere il Sudafrica in casa loro nel loro mondiale organizzato da loro su un campo al limite della praticabilità e sovrastarli con il pacchetto di mischia è una cosa veramente da mandare nella storia sì veramente è stato soprattutto dicevamo prima quella prima linea lì che è devastante la nostra prima linea e ha messo sicuramente in difficoltà a tutto il pacchetto andiamo al primo collegamento ok? così dopo torniamo siamo come promesso The Day After siamo con i protagonisti i protagonisti di una di una vittoria storica quindi vi lascio la parola a voi e vi presentate perché alcuni che ci seguono ancora non vi conoscono vi presentate Ani e anche club formatore ok? cominciamo dal pilone vai Marcos Francesco Gallorini 18 anni è nato ad Arezzo è giocato ad Arezzo e quest'anno alla Capitolina prima al Basari ok e tu? Simone Brisichella 18 anni Reggio Viadana sì noi penso che ci conosciamo da alcuni anni se non ne sbaglio un pochino un pochino diversi anni visto che a Viadana c'è anche un po' il mio cuore parlando di cuore allora cominciamo subito con il pilone perché è quello che ha avuto sicuramente la lotta più tremenda io direi perché una partita così con un campo così e contro una squadra così solida e forte anche in mischia come l'hai vissuta? raccontami come è stato le prime impressioni? diciamo che la maglietta bianca è durata molto poco diciamo 30 secondi il tempo di fare la prima mischia era già nera di sicuro più di quella di Brisich dopo 50 minuti comunque è stata una partita veramente dura sotto il punto di vista fisico anche perché il campo era veramente molto pesante poi comunque loro erano veramente a livello fisico erano veramente molto pesanti e molto forti però comunque siamo riusciti a contrastare molto bene i loro punti di forza facendo diventare i nostri punti di forza io vi seguo da un po' di tempo mi dispiazi di non essere lì perché avevo tutto organizzato e il mio cuore ha fatto qualche scherzetto quindi ho dovuto rimanere qui a Brescia però vi seguo e per quello attraverso Cesare cerchiamo di essere vicinissimi a voi parlando giustamente con con un trequarto hai giocato apertura la partita di ieri sapevi che era difficile far gestire quel pallone pesante e il campo così fangoso come l'hai vissuto a te? sì era molto difficile diciamo che inizialmente abbiamo ci siamo adattati ecco alla situazione del campo e comunque siamo stati siamo attenuti al piano di gioco ecco e quindi molto possesso è stato fondamentale il kicking game e quindi questo ci ha diciamo ci ha favorito ovviamente poi la grinta e la forza di non mollare mai questo è quello che ci è servito per la gestione è stato abbastanza complicato però una volta capito come come fare siamo andati bene ecco poi con una mischia molto 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 forte come la nostra è stato diciamo ci ha aiutato ecco e tutto sommato siete abituati a quella mischia lì perché tu hai giocato la partita precedente contro il Pumita giocavi all'estremo però la partita era in un certo modo quando ci è stata la pulsione l'hanno riconosciuto anche i loro allenatori che la partita è stata condizionata da quel cartellino rosso quindi avevate voglia di riminci in questa partita tu la prima mischia l'hai sentita già solida io stendo entrando al secondo tempo comunque la situazione era diciamo un 50-50 perché le prime mischie le avevamo dominate poi avevamo gli ultimi due invece del primo tempo le avevamo un po' subite poi comunque abbiamo ritrovato i nostri principi siamo riusciti a ritornare dentro i nostri schemi di gioco e abbiamo fatto quello che dovevamo fare ovvero dare una mano ai nostri tre quarti per cercare di avere le palle più veloci possibili e riuscire comunque a esprimere il nostro gioco per quanto riguarda il ruolo d'apertura tu ti trovi meglio forse giocando all'apertura che è estremo come la vivi cioè per me è indifferente non ho preferenze mi piacciono tantissimo entrambi e quindi questo diciamo non ho una preferenza parliamo un po' di te però ho già messo proprio ok parlando un po' di te da quanto tempo giochi il rugby di te? io? sì da quando ho 5 anni un po' di tempo è passato sempre lì a Viadana no io ho iniziato a Valeggio sul Mincio fino al primo anno di Under 10 e poi sono passato a Viadana che ovviamente era molto più vicino a casa e era appena finita l'epoca degli eroni ecco e poi sono andato a Viadana invece te sei partito quando a giocare al rugby? io ho iniziato a 6 anni al Basaria e dopo hai avuto l'esperienza di andare a Roma? sì quest'anno quest'anno per quanto riguarda diciamo l'esperienza vostra dei giovani come state vivendo so che già vi ho visto già in qualche visita in qualche diciamo percorso turistico e lì tutto sommato è un bel posto siete in un bel posto lì vicino a Città del Capo vicino al mare non è male nonostante il tempo brutto che tante volte può succedere come lo state vivendo? in realtà molto bene comunque siamo un bellissimo gruppo siamo molto coesi tra di noi perciò riusciamo a organizzare bene sia il momento dell'allegamento dove c'è bisogno di concentrazione e di voglia e soprattutto e anche comunque momenti di svago come magari possono essere chi rimane a dormire in hotel o chi si vuole riposare o chi vuole uscire andare a fare magari un giro al supermercato o un giro in città ecco Simone per quanto concerne questa esperienza qua internazionale anche te come la stai vivendo? sì è un bellissimo posto sicuramente ci sono dei panorami mozzafiato e comunque quando ci abbiamo i momenti liberi c'è che c'è bisogno ovviamente anche di quelli come ha detto Marcos ci svaghiamo o andiamo a fare un giro oppure ovviamente c'è bisogno anche del riposo e comunque sì è un bellissimo posto una bellissima città con una cultura rikvistica incredibile e infatti lì è una una nazione che vive vive per raggi la nostra trasmissione voi non l'avete visto ho cominciato con con la ringa la ringa di odiasse quella ringa che ormai è diventato virale sinceramente non è la prima volta che odiasse prende diciamo la voce fa sentire quello che bisogna sentire prima di entrare in campo come l'avete vissuta è stata un'emozione incredibile cioè mi ha caricato tantissimo e sono proprio entrato nel modo giusto per affrontare una partita per un combattimento ecco per una battaglia una lotta è fantastico si si ha visto si ha visto le immagini si vede che eri iper caricato invece non aveva bisogno di tanta ringa perché voi da dentro avete tutto quel fuoco lì per per entrare in campo o è sbaglio dai diciamo che comunque Bugo fa sempre il suo effetto quando fa i suoi discorsi è sempre una mano in più che non fa mai schifo no si sente anche durante la partita quando dice ancora 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 si sente durante i mischi diciamo che spinge più lui con la voce che il mio collegamento molte volte però almeno ti trasmetti dai ti trasmetti a loro sicuro per te comunque che un ruolo di sacrificio in un campo così hanno fatto bene a gestire diciamo le prime linee in quel modo penso che è stato giusto tu sei entrato al momento giusto anche sì sono entrato in un momento cruciale nella partita di solito comunque i primi minuti del secondo tempo sono fondamentali perché di solito sono quei minuti dove o prendi o fai punti di solito comunque nella scorsa partita nei primi dieci minuti abbiamo subito due mete invece a questo giro abbiamo fatto noi due di mete perciò è un bel segnale ecco anche di esserci con la testa di essere presenti e di avere la voglia di sottomettere l'avversario ecco invece te all'apertura come i tre quarti quando sei scappato via quel quel giocatore che ha fatto praticamente cost to cost ha fatto la meta e lì un po' vi ha fatto riflettere giusto? sì sì sicuramente è stato un errore che non ci voleva però nonostante ciò c'è da tirarsi su e stare sempre a testa alta ecco e continuare a combattere lo stesso non farsi abbattere perché sennò e comunque l'abbiamo fatto siamo siamo rialzati uniti insieme una famiglia infatti questa famiglia chi dedica questa bella vittoria oltre a tutto il rugby italiano come ha detto viene anche Massimo Brunero però voi personalmente a chi in più? io alla mia famiglia ovviamente e alla mia fidanzata io soprattutto a mia mamma che ripensa tutti i sacrifici che ha fatto insieme a mio fratello anche per portarmi alleamenti tutti i sacrifici anche durante durante ecco dall'inizio quando ho iniziato a giocare a rugby poi ovviamente a tutti i cari e soprattutto a tutto il rugby italiano e anche io anche la mia ragazza soprattutto rugby italiano come ha detto Massimo infatti avete fatto bene comunque io adesso visto che siete la giornata the day after quindi la giornata del riposo so che siete stati un po' in piccina così via dopo che programma avete in questa giornata cosa vi ha preparato come programma il signor Brunelos oggi è una giornata libera possiamo rispondarci possiamo decidere cosa fare ecco sempre diciamo dentro non lontanissimo del posto giusto certo esatto esatto e come pubblico come siete messi ho visto che c'è c'è forse un po' di pubblico di più delle altre nazioni però voi comunque avete anche alcuni a vostro seguito ieri comunque ce n'erano diversi gli italiani ho visto c'erano comunque penso cioè c'erano stata una sessantina di persone 70 italiani in circa c'era anche il console italiano del Sudafrica a Derci sì perché comunque qua Cape Town ci sono diversi ci sono tanti italiani ecco sì è una colonia italiana è vero io lo so tanti anni fa ero andato mille anni fa nell'81 sono andato è l'epoca dell'apartheid guarda si è passato un po' di tempo per quello ci tenevo anche tornare allora niente io vi ringrazio per la vostra gentilezza so che voi diversi di voi operate in Instagram in diretta con i nostri amici che vanno chi verrà più tardi in diretta in Instagram avete già nominato qualcuno ci sarai anche te Simone no no io sono la prossima settimana penso ma stasera c'è François Douglas e Bocci benissimo così no vi dico così la gente che ci segue ovviamente la nostra trasmissione parte alle 19.30 su Sky 810 e WellTV io vi ringrazio e manderò il link a tutti voi perché così lo potete anche vedere dopo on demand ok grazie a te Cacio arrivederci e mi raccomando ciao 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 contro Giorgia mi raccomando perché ho visto la partita ieri vedevo in due computer a destra vi vedevo a voi a sinistra i Pumitas e sinceramente i Giorgiani hanno atomizzato i Pumitas sembrava una squadra di veterani contro una squadra di giovani perché veramente sono stati molto vabbè che noi l'avevamo già visto un po' nel Summer Series ti ricordi e nel qualche mese fa quindi una squadra una squadra da rispettare però vabbè adesso con il video potete guardare tutto ciao amigos arrivederci buona prosecuzione ciao a martedì ciao abbiamo già parlato in tutto il rugby di martedì che c'è stato il 7 a Parma però giustamente parlando delle sebre c'è stato il cambiamento del logo delle sebre di tutto nuovo e anche abbiamo visto il spot il nuovo spot spero che ci sia comunque sempre a Parma la crescita di queste sebre che stanno stanno lavorando secondo me in questi due ultimi anni stanno lavorando veramente per imporsi su un territorio che non è veramente diciamo empatico con la franchigia federale dopo la realtà di questi giorni ci ricorda che la franchigia di Brescia ovvero Vrixia va avanti però senza i centurioni che hanno dichiarato la ripartenza a partire della serie C quindi anche questo qua volevo volevamo parlare per commentare un po' l'attualità l'attualità dice che va avanti la franchigia tra Brescia e Franciacorta che diventerà Brixia per giocare campionato di serie B con una squadra bella forte e anche ci sarà una squadra in serie C cadetta quindi ci saranno due squadre e soprattutto anche il discorso del rinforzare le giovanine tra ambe due club penso che si può trovare sicuramente una bella under 16 una bella under 18 per competere nell'alto livello delle giovanine cosa dici? sicuramente in questi giorni ci saranno svelati un po' tutti i programmi delle squadre della provincia e non solo il mercato in pieno fermento e vediamo vediamo attendiamo anche di sapere da parte della federazione la composizione dei gironi delle varie serie perché con tutte queste defezioni eccetera ci saranno sicuramente parecchi ripescaggi e vediamo anche che intenzioni ci sono di fare quell'ipotetico campionato delle seconde squadre e anche lì verranno tolte delle squadre cadette dai campionati di serie A e serie B vediamo attendiamo informazioni precise ci sarà ci sarà l'assemblea ci sarà il consiglio questo 30 di giugno quindi penso che lì si parlerà di tutto questo ricordiamo per quanto concerne il nostro territorio che il Calvisano già ha aggiornato il ritorno di Scanfo Scanferla e ritorna in territorio brecciano anche Sarlo che è un trequarto che ha giocato l'anno scorso a Piacenza quindi man mano penso che Moro Morelli sta sistemando la rosa di questa serie A che oggi come oggi è la unica squadra serie A brecciana che farà parte del campionato oggi è il 30 giugno è la data di termine della stagione da domani sabato primo luglio inizia la nuova stagione 2023-24 quindi molte società hanno atteso anche la fine ufficiale della stagione per poter comunicare i vari i vari innesti nelle rose quindi la settimana prossima sarà una settimana scoppiettante per quanto riguarda le notizie di attualità Sì quello settimana prossima ci troviamo per parlare di quella attualità Ricordiamo che questa settimana più precisamente martedì sera mentre noi eravamo in onda con tutto rugby c'è stato l'evento del Brescia oggi un evento al Coco Beach di Lonato dove sono state premiate tutte le squadre che hanno vinto i campionati in tutti gli sport bresciani per il rugby il rugby rappresentato solamente dal Rovato unica squadra che è riuscita a vincere il proprio campionato quindi ha avuto come sappiamo la promozione dalla serie C alla serie B sono stati premiati i ragazzi erano presenti una piccola rappresentanza ovviamente perché non era possibile ampliare più di tanto i vari invitati è stata una bella serata è stata mandata in onda in diretta c'è tutta la diretta sulla pagina Facebook del Brescia oggi noi avremo un pezzettino le foto della premiazione quindi ancora una volta complimenti ai ragazzi del Rovato che si sono dimostrati in grado di competere e vincere questa promozione vincere il campionato e assicurarsi la promozione in serie B parlando di feste torniamo un po' alla festa di settimana scorsa che siamo riusciti a concludere a completare il nostro reportage torniamo prima alla festa dell'ospitaletto allora raccontami una domenica particolare anche per te che sei sindaco di questo territorio oggi una domenica particolare sono qui alla festa dell'arrabbi sono onorata di essere qui avete portato anche una torta che rappresenta il tre d'union che c'è la vostra vicinanza esatto la nostra la vostra vicinanza per chi ne te conosce visto che sei il nuovo sindaco chi sei? io sono Laura Tretani sono il nuovo sindaco il neoletto sindaco di ospitaletto mi raccomando il RAC non bisogna sostenere perché in Italia è difficile però è bello sicuramente lo sosterremo come è sempre stato sostenuto perché come sosterremo anche tutte logicamente tutte le altre società sono infatti ovviamente lo sport è importante per tutti per quanto riguarda le strutture so che ci sono dei progetti quindi importanti esatto continueremo sicuramente la torta grazie grazie non ci guarda c'è la foto di Rito adesso c'è il video come sempre la festa dell'ospitaletto è un successo è stata simpatica con grande partecipazione dal nostro canto a Rovato c'è stata la cena di ringraziamento a tutti i volontari che avevano permesso la riuscita della festa del rugby Rovato di qualche settimana fa quindi ti mando alcuni scatti eravamo al campo due belle tavolate è stata una serata così in allegria tu nel pomeriggio hai seguito il trofeo emergency alla sera c'è stato infatti quello lì l'abbiamo già visto già l'abbiamo visto giustamente in tutto rugby sì è stata una giornata completa perché la sera da Brescia siamo andati su un altro ospitaletto per la serata di festa e il giorno dopo sono stato prima Aldo Corcione per seguire la partitela di chiusura tra i genitori giocatori e anche educatori e dopo le premiazioni che abbiamo visto a ospitaletto sempre nell'ambito di festa ricordiamo che si è tenuta anche la festa degli Od Rovato al Foro Boario sì ha avuto ampio successo anche quella molto successo quando ci sono le feste per il rugby c'è sempre c'è sempre un'ampia partecipazione di pubblico infatti infatti adesso cominciamo anche a ricordare che a luglio ci sarà la super festa la festa che sinceramente gravisco tantissimo ovvero la festa del Borgo Borgo Boncarale si fa lì giustamente al predio lì a Borgo una festa adesso mostriamo la locandina che invitiamo a vivere perché veramente c'è oltretutto della bella gente bel spettacolo bel cibo ottima birra quindi ci teniamo anche perché ci troviamo è la festa di chiusura tutto l'anno del rugby di base quindi andiamo volentieri per quanto concerne il mondiale in Sudafrica la regia ci propone un altro collegamento come hai visto questa Italia te lì dal vivo spettacolare dal vivo posso dirti un po' di cose perché con le emozioni tutto quello fare l'analisi propriamente specifico lì è difficile ovvio che dopo ho già visto la partita in video però lo primo è la sensazione lì in campo con i ragazzi veramente precisi rispettando tutto lo che si aveva parlato nella preparazione della partita sotto pressione rispondendo bene migliorando cose che abbiamo fatto nella prima partita male sinceramente è stato io personalmente sento mi piace tanto quando vedo una squadra che cresce e che si vede in campo e si vince anche di più però vedere questa crescita in tutta la squadra è stato veramente emozionante e noi tutto sommato abbiamo seguito il percorso di questa under 20 mi ricordo anche nel summer series a Monigo sta lavorando sta lavorando bene nostro carissimo amico Max Brunello e tutto lo staff e questi ragazzi veramente si impegnano si impegnano a crescere la prova ho parlato qualche minuto fa nel collegamento precedente con due protagonisti di questa partita e logicamente parlavamo fuori microfono con te Germán il discorso della Georgia sarà un bel un bel scontro perché sono simili come squadra ambe due squadre giusto? giusto sì giusto perché la Georgia nella partita con l'Argentina che non non è arrivato ancora il video non ha ricevuto ancora il video sicuramente lo riceverà adesso questo pomeriggio dobbiamo vederlo ma nella partita nella prima partita della Georgia contro la Sudafrica loro hanno giocato diverso non hanno giocato solamente chiuso così con gli avanti come ieri che il capo era molto difficile ma a Sudafrica loro hanno fatto break fuori con questa difesa che fa Sudafrica così forte ma non tanto omogenea i georgiani hanno preso un gioco esterno hanno preso Gucchi per quello non dobbiamo pensare che è solo quello che ha fatto bene ieri è una squadra è una squadra completa perché gioca bene a largo come dici te ha dei giocatori interessanti perché giocano anche a alto livello a quei ragazzi lì infatti si vedono si vedono che c'è sostanza in quella squadra quindi non solo la forza fisica che ormai conosciamo da sempre dei georgiani però adesso viene anche legata anche a una qualità tecnica sia in attacco sia in difesa come dicevi te la difesa della Georgia è interessante perché partono montano veloce di punta come diciamo noi un po' però dopo ti fanno come si dice avvolgendo ti vanno avvolgendo e ti obbligano a giocare sempre nel centro e non darti la possibilità di giocare alla rara che già viene coperto quindi questo lo ha subito i pumitas tu me lo confermerai quando lo vedrai perché non l'hai visto io seguivo le due partite in diretta a sinistra avevo il computer con i pumitas a destra la partita degli azurrini però parlavamo di questa giornata una giornata che logicamente il campo si è visto come è rimasto che idea ti sei fatto delle altre partite per esempio questa Francia contro gli All Blacks Juniors oh quella è stata una partita bellissima sotto la pioggia veramente era tanta pioggia in quel momento lì della partita da Nuova Zelanda la Francia ha fatto vedere una cosa che è spettacolare credo io che è la squadra più completa del campionato fino a questo momento anche l'Irlanda è molto organizzata però la Francia lo che mi è piaciuto è che ha vinto la prima partita contro il Giappone giocando tanto che ha fatto vedere che loro hanno veramente l'abitudine di giocare la palla nel contatto della continuità diretta un po' al stilo francese ma dopo ha cambiato completamente la forma di giocare contro la Nuova Zelanda ha giocato diritto così forte con tanto kicking game e ha fatto le due forme di giocare all'altissimo livello per quello noi siamo qui nel stesso albergo con la Francia loro hanno capito come giocare hanno cambiato la strategia hanno giocato bene hanno individualità hanno un 9 che veramente sembra il migliori giocatore della competizione ha giocato al piede nella partita contro la Masinania lui ha preso il gioco al piede lui e lo ha fatto in una forma incredibile anche l'apertura mi è sembrato un buon buon'apertura di Francia hanno veramente come dici te delle individualità che a me sono difficoltà i junior black perché loro sono forti ho avuto il controllo della partita chiaro in un momento che i neo-celandesi mettono due metri nuovamente trovano il controllo i francesi e dopo l'Irlanda che ho visto la prima partita la prima partita diciamo della seconda partita nel primo nel primo turno ha giocato l'Irlanda contro l'Australia che è stata anche una buona partita all'inizio l'Irlanda era un po' sotto pressione ma dopo l'Irlanda gioca sempre uguale sempre uguale con queste due strutture davanti con il 10 che gestisce tutto molto calmo sbaglia ma continua con lo stesso e continua 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 ha una costanza che alla fine trovano il controllo della partita veramente l'Irlanda in organizzazione sembra la squadra la squadra più organizzata della compagnia un po' immagini di somiglianza della squadra nazionale di Irlanda hanno quei stili lì come un po' la Francia anche segue le stili della nazionale dei Galtier quindi veramente sono due vere squadre da vedere e adesso caro German possiamo parlare giustamente di un bilancio dai possiamo fare un bilancio di queste due prime giornate penso che il livello di questo mondiale è di altissimo livello o è sbaglio tu che sei lì dal vivo che ti invidi un po' in maniera sana ti invidio come lo stai vivendo e come lo stai vedendo sì veramente lo bello di questo mondiale o di tutti i mondiali che si fanno da under 20 ti fa vedere come ogni paese sviluppa i ragazzi perché ogni paese ha la sua realità è molto difficile copiare una forma di sviluppare di un paese all'altro perché ognuno ha la sua caratteristica dove come lavorano nella scuola nel club nell'università sono diverse forme di sviluppare ma anche con le competizioni che ogni paese presenta per il sviluppo ma veramente come ti hai detto si vede un livello si vede un livello così altissimo altissimo e le partite sono belle il problema che vedo io è il clima qui a Cape Town chiaramente le Stormer si chiamano Stormer per la tormenta che abbiamo qui conosco conosco tu eri già andato in Sudafrica penso nella tua lunga carriera o la prima volta che vai no è andato dieci volte almeno penso che ogni anno veniamo qui con Pumas a giocare contro la scuola ma lo che vedo è che giocare tre partite nel stesso campo con la pioggia questa ultima si è fatto vedere chiarissimo però anche nella prima giornata il campo è un po' morbido è difficile di farlo pesante molto pesante ma è che per ambe due squadre però diventa pesante non puoi sviluppare il gioco a largo che è quello che è più bello da vedere perfetto dai comunque ormai ogni tanto ti connetterò ti collegherò perché così abbiamo un esperto del rugby internazionale soprattutto questi ragazzi perché lo sviluppo è quello il tuo lavoro che stai facendo in questi anni da quando sei arrivato qui in Italia prima eri a Viadana e dopo stai sviluppando il tuo lavoro dei giovani dall'alto livello penso che ti sei trovato bene subito in questo lavoro penso giusto? sempre uno ha un'etapa di diagnosi che è determinante per me finisce adesso l'anno mio primo anno di lavoro e finire con questa competizione mi fa vedere tutto veramente fare tutto questo messe qui con gli allenatori con le squadra mi fa vedere completamente cosa fanno bene i ragazzi cosa hanno di migliorare ma io ho una foto oggi del sviluppo d'Italia chiarissimo che mi permette fare una proposta di obiettivi per la prossima stagione già chiara con tutto per la strada giusta però lo che è bellissimo di essere qui è vedere come ogni paese perché questa è l'etapa di confermazione dei ragazzi qui si è veramente chi può cercare di arrivare a essere un giocatore professionista e questo è molto interessante verlo a livello mondiale benissimo io ti ringrazio ti auguro un'eccellente continuità di lavoro soprattutto perché il fatto di osservare tutti questi allenamenti il modo che lavorano è un buon lavoro anche per te come dici per vedere per fare la diagnosi assoluta di quello che è lo sviluppo a livello internazionale del rugby giovanile che noi in Italia possiamo essere diciamo orgogliosi di questi giovani che ci rappresentano quello sicuro sì i ragazzi stanno lasciando tutto in campo veramente molto benissimo come si dice da noi a stare la vista arrivederci grazie ciao un caccio grazie a te ci vediamo Stefano momento adesso sì momento di saluti abbiamo comunque onorato la nostra proposta settimanale la seconda proposta settimanale del rugby attraverso il canale Sky 810 Well TV ricordiamo che c'è la possibilità di seguire quelli che non hanno Sky di seguire via streaming andando al sito di Well TV ovvero www.welltv.eu cliccate lì direttamente e vedete quello che è in onda al momento ovvero la nostra puntata ogni venerdì alle 19.30 e adesso sì caro Stefano più che mai più che mai caccio viva il rugby viva il rugby vamos e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.